Lunedì 5 marzo 1945, ore 7 del mattino. Gli alleati iniziano l'attacco sulla quarta città più importante del Reich, Colonia. Da nord-ovest, un'unità di assalto della terza divisione armata con la copertura dei cecchini rastrella il soborgo di Boklumund. Il giorno prima al generale Koeckling è arrivato un ordine perentorio. Colonia va difesa fino all'ultimo war. I mortai della Volkssturm dovranno costringere i carri armati americani alla ritirata. I soldati americani sono certi che i tedeschi opporranno scarsa resistenza. In realtà però quando le truppe statunitensi raggiungono le porte della città si trovano davanti un fuoco di sbarramento. Quando i cannoni tedeschi aprono il fuoco il cameraman Walter Rosenblum gira queste immagini straordinarie a rischio della propria vita. Di fronte alla potenza dei carri armati Sherman da 30 tonnellate, la polizia e le unità della Volkssturm, armate in modo del tutto inadeguato, possono poco o nulla. È il momento della resa. Risalendo la Vanlorstrasse, la terza divisione armata riesce a penetrare all'interno di Bickendorf, un altro soborgo alle porte di Colombo. Un abitante di Bickendorf racconta. Fui presa da una strana sensazione, un misto tra paura e sollievo. Sollievo perché sapevo che tutto sarebbe finito. I raid aerei senza sosta, le continue notti insonni degli ultimi mesi. Terrore perché la propaganda nazista ci aveva martellato con tutte le atrocità che gli alleati avrebbero commesso al loro arrivo. Stupri, abusi di ogni tipo. Ma non ci vuole molto per renderci conto che gli americani non erano affatto quei mostri che i nazisti ci avevano detto. E tuttavia, per evitare i proiettili vaganti, i civili ancora una volta sono costretti a cercare riparo nei rifugi antiaerei, dove hanno passato ore interminabili durante i bombardamenti. Gli americani intanto hanno conquistato la strada che circonda la città vecchia. Colonia ormai è in vista. Martedì 6 marzo 1945. Unità della terza divisione armata entrano a Colonia. È uno spettacolo di morte e devastazione. I soli punti di riferimento sono i campanili delle chiese. Martellata da bombardamenti continui, la città vecchia è ormai un cumulo di macerie. In seguito un soldato americano la definirà la città fantasma. Ma dietro ogni muro, ogni finestra, ogni porta, potrebbe nascondersi un cecchino tedesco. Nervosi ed impauriti, gli americani a loro volta sparano a vista. Al seguito delle truppe americane ci sono due cameraman. Sono loro a riprendere queste immagini della battaglia che si svolge casa per casa. La maggior parte della popolazione di Colonia è stata evacuata. Altri sono spollati sull'altra sponda del Reno. In migliaia hanno trascorso mesi nelle cantine. Gli americani passano al setaccio ogni edificio. Una ragazza a bordo di una macchina viene coinvolta in una sparatoria presso Christoph Strassen, ma viene soccorsa e si salva. Il suo compagno non ha la stessa fortuna. Nel primo pomeriggio alcuni carri armati Sherman raggiungono con cautela la piazza della cattedrale. Gli americani temono ulteriori sacche di resistenza. Improvvisamente un carro armato tedesco e un gruppo di soldati armati di mortaio aprono il fuoco contro gli americani. Uno Sherman viene colpito in pieno. Due membri dell'equipaggio muoiono sul colpo. Il comandante morirà dissanguato. Pochi minuti più tardi arriva un'unità americana che apre il fuoco contro il panzer tedesco posizionato all'estremità della Komodienstrasse. Tre soldati riescono a scappare dal ma vengono freddati sulla strada. Il comandante tedesco invece muore all'interno del carro armato. I cameraman fanno in tempo a riprendere queste drammatiche immagini. Alle 5 del pomeriggio del 6 marzo 1945 la battaglia di Colonia è finita. Gli americani hanno finalmente raggiunto il Reno. La maggior parte degli abitanti di Colonia non ha più nulla da dire. Frastornati da una settimana di battaglie, da tre anni di bombardamenti, da 12 anni di propaganda. Gli anziani, le donne e i bambini che popolano la città sembrano aver perso la facoltà di pensare e di dire la verità. Con Colonia, gli americani hanno raggiunto uno degli obiettivi principali della loro campagna. Ovunque arrivino, i soldati passano al setaccio agli edifici, alla ricerca di armi. Queste immagini sono state girate a Meckernick, nella parte settentrionale della regione Eiffel. Ogni uomo in uniforme è sospetto, anche se è soltanto un impiegato delle ferrovie del Reich. E comunque ci potrebbero essere ufficiali nazisti che, abbandonata la divisa, cercano di nascondersi tra i civili. Per provare ad ammorbidire gli americani, la gente del luogo ricorre al poco inglese che conosce. Ma gli americani hanno ragione ad essere così prudenti. Gli scontri con le poche unità della Wehrmacht rimaste sono infatti quotidiani e non sempre i fedelissimi di Hitler si consegnano volontariamente al nemico.